Il rettore del Politecnico ha le stesse domande del collega Bergamo, naturalmente da lei ci aspettiamo anche però un giudizio di cosa si può fare di più, perché qui ci sono raccomandazioni sul transfer technology, sull'interfaccia con le imprese, eccetera, Politecnico di Milano insieme a quello di Torino, insieme a Torino, sono le eccellenze nazionali su questo, quindi quest'anno e l'anno prossimo cosa ci aspettano con una crisi che morda così? Sì, io devo dire che secondo me il rapporto risente dell'essere stato fatto un anno fa, nel senso che se fosse così semplice credo che saremmo già sulla buona strada. Cito alcune cose che sono state dette, introdurre un sistema basato sul merito per la promozione degli docenti, noi abbiamo deciso che in tutto il nuovo reclutamento la valutazione sarà fatta da referi internazionali, è semplice farlo, riusciamo a farlo semplicemente. Un tema di accountability, credo che ormai molte università abbiano numeri, dati, rapporti, quindi tutte cose sicuramente utili però su cui molto si è fatto. Credo non siano sufficienti in una situazione internazionale che sta cambiando molto. Rispondo rapidamente alle due osservazioni. Io devo dire che sono un convintissimo sostenitore dell'autonomia a qualunque livello, purché ci rendiamo conto del fatto che autonomia vuol dire divergenza. Se uno ritiene che dall'autonomia anesca un sistema omogeneo e messo meglio di prima non ha capito nulla. Autonomia vuol dire che le cose sono diverse e divergono. Cito un dato sulle università italiane. C'è un'università italiana in cui mediamente gli studenti acquisiscono 14 crediti l'anno. Vuol dire che mediamente uno studente ci mette 15 anni ad avere la laurea triennale. Ecco, credo che su una cosa del genere in Lombardia non sarebbe possibile, non perché abbiamo caratteristiche genetiche, ma perché c'è un sistema di controllo sociale credo un po' diverso. Allora, se vogliamo fare regole che tengano insieme queste cose, facciamo regole che non vanno bene né per gli uni né per gli altri. Cito un fatto, l'autonomia aumenta. Sia l'Università di Bergamo che noi abbiamo un'esigenza, secondo me, di scalare le classifiche internazionali assumendo in alcuni casi delle persone. Io posso assumere persone oggi sulla base di questo parametro. Ne posso assumere un numero pari al 50% del turnove dell'anno scorso più il 20% della differenza esistente tra il mio livello di un indicatore che è spese fisse diviso contributi per fondo di finanziamento ordinario moltiplicato per 0,2. Ecco, questa è una norma che è uscita attualmente dallo Stato. Obiettivamente, quando cerco di spiegarla ai miei colleghi con cui mi confronto, è un po' difficile. Tanto per dirvi le sfide che però noi invece abbiamo davanti oggi. Abbiamo avuto una proposta di una municipalità a un'ora di treno da Shanghai che ci ha chiesto di creare un campus di 400.000 metri quadri. Allora, capite che andiamo dal doverci guardare la regoletta al decidere qual è la nostra strategia di globalizzazione. È un po' complicato tutto questo. E devo dire che i segnali non sono segnali di un forte aumento dell'autonomia, almeno negli ultimi tempi. Cito una cosa sul valore legale del titolo di studio. Per me, sinceramente, è l'ultimo dei problemi. Devo dirlo sinceramente. Nel senso che nelle imprese private non conta, ma ormai non conta neppure nelle pubbliche amministrazioni. Da un lato perché non assumono e quindi il percentuale devo dire modesto. Secondo, guardavo il dato sui laureati in lettere. I laureati in lettere oggi in Italia hanno un voto di laurea medio di 108 su 110. Allora, credo che l'effetto discriminante del valore del titolo sia sostanzialmente nullo. Il che vuol dire che ci saranno altre cose che vengono valutate. E devo dire che nei concorsi in cui mi capita di essere commissario, raramente c'è una graduatoria che si basa sul fatto del titolo e valutazione del punteggio. Ci sono ormai colloqui attitudinali, assessment. Per cui, obiettivamente, mi sembra che il sistema abbia superato. Come spesso in Italia, la sostanza è un po' diversa rispetto al dettato della forma. Permettetemi solo una battuta. su un tema di questo genere, una consultazione pubblica, faccio fatica a capire che cosa possa consentire di ottenere. Però forse sono un ingegnere, quindi sono troppo limitato nelle mie valutazioni. Diciamo una cosa, invece, sulla parte, se vogliamo, più propositiva. Perché io credo che l'Ocse sia arrivato a un certo punto, ma dobbiamo fare qualcosa in più? Perché noi ci troviamo oggi di fronte a un tema che è stato detto più volte, quello della crescita. Ecco, credo che in Italia la crescita non potrà mai avvenire, anche qua magari faccio qualcosa di politicamente scorretto, guardo l'amico Leo Martini, non potrà avvenire riducendo il costo del lavoro. Non credo che riducendo il costo del lavoro, riducendo il costo dell'energia, le nostre imprese diventeranno competitive a livello mondiale. Diventeranno un pochino più competitive, ma stiamo parlando di fattori che incidono relativamente poco. Non potremo uscire dalla crisi come l'Argentina grazie alle risorse naturali, perché ne abbiamo poche. Quindi riusciamo, secondo me, a uscire dalle crisi se facciamo innovazione. E l'innovazione, alla fine, sta nella testa delle persone. Quindi, per aumentare la probabilità di innovazione, supponendo di avere persone di qualità media, dobbiamo avere più persone dotate di buone qualità che decidono di investire la propria vita in Lombardia o per le imprese che operano in Lombardia. Noi oggi ci troviamo di fronte a una dinamica molto più critica rispetto a dieci anni fa. Dieci anni fa lo studente Lombardo Bravo studiava in Lombardia. Avevamo i flussi dal sud al nord, ma non c'erano flussi significativi di studenti che andavano nel resto del mondo. Oggi lo studente Bravo considera la possibilità di andare a studiare a Londra, ma anche in Cina ormai, oltre che in Italia, perché ci sono, forse anche per, se volete sentito dire, le sensazioni, guardo Oscar Giannino perché lo sento a Radio 24 tutte le mattine con The End. La sensazione è che qui siamo a The End. Per cui, se io voglio avere vent'anni, trent'anni, quarant'anni di vita professionale davanti, devo andare in un altro mondo. Allora, la prima sfida è fare in modo che queste persone di qualità si rendano conto che qui ci siano delle opportunità importanti e la seconda, permettetemi, è di attrarre persone dal resto del mondo che qui possano contribuire a creare capitale umano. Quali sono, a mio avviso, le condizioni per far questo? La prima tocca in modo esclusivo le università. Dobbiamo dare opportunità formative che siano percepite come opportunità formative internazionali. Vuol dire classi di studenti internazionali in cui lo studente si rende conto che può entrare in contatto con etnie, modi di pensare diversi anche stando a Milano, senza necessità di uscirne. Vuol dire avere docenti internazionali e quindi punti di vista diversi che vengono presentati all'interno delle nostre università vuol dire quello che io chiamo un profilo formativo international team shape. Quindi una persona che abbia ancora un background tecnico importante, parlo per le mie discipline, quindi la gamba della T, però abbia una capacità di comprendere altre discipline, altri fenomeni, la parte alta e abbia un'apertura internazionale. E questa è una sfida che le università hanno, a mio avviso, davanti e su cui noi per primi, ma tutti gli altri, stiamo un po' lavorando. Secondo elemento è, sono attrattivo se qui viene percepito un contesto lavorativo interessante. La spostamento dal sud al nord avviene perché noi siamo bravissimi ovviamente, ma avviene forse ancora di più perché ci sono opportunità occupazionali importanti. Allora credo che sia fondamentale anche qua fare un salto da una logica di trasferimento tecnologico intesa come le università sviluppano idee, le danno alle aziende, al riconoscimento che noi siamo partner su questa iniziativa. L'università può fare qualità se ci sono imprese di qualità, l'impresa può rimanere di qualità se riesce ad avere capitale umano di qualità. Quindi per me il passaggio è, io lo chiamo, uso una parola un po' diversa dal presidente Formigoni, ma credo che la logica sia la stessa, quella della cooperazione tecnologica. Cioè di fatto abbiamo obiettivi comuni che possiamo realizzare se ci mettiamo a lavorare insieme fin dall'inizio. Il terzo elemento è quello dove l'effetto istituzione è più importante ed è il fatto che il capitale umano si muove anche sulla base della propria percezione della qualità della vita. Da questo punto di vista, a mio avviso, la Lombardia e l'Italia sono in una posizione molto interessante. Si citava prima lo stipendio del premio Nobel, su premio Nobel sicuramente faccio fatica anch'io ad arrivarci, però tanti miei colleghi dicono ma non riusciamo neanche a trarre il buon professore inglese o il buon professore tedesco, perché negli Stati Uniti lo pagano di più. Ecco io continuo a dire che noi dovremmo valorizzare un po' di più le cose buone che abbiamo. Ne cito due. Uno, il sistema sanitario. Se vado a lavorare negli Stati Uniti mi devo fare un'assicurazione privata. Se vengo a lavorare al Politecnico di Milano all'Università di Bergamo ho la sanità lombarda, che è un elemento qualificante positivo. Ecco non ho mai visto nei bandi della mia università, nonostante lo sostengo, in quelli degli altri Atenei, rafforzare, rivendicare questi valori di sistema regione e sistema paese. L'altro, permettetemi, tra vivere nel Kentucky, nel mezzo del Kentucky, essere a un'ora di macchina dalla montagna, un'ora di macchina dal mare, con musei da tutte le parti, forse anche questo è un valore aggiunto. Però questo vuol dire a mio avviso che questa strategia di sviluppo del sistema universitario è e sarà ancora più legata alla strategia di sviluppo regionale. Cito solo un esempio. Noi stiamo ragionando sui nostri sedi lombardi. Vi cito una che è Cremona. Su Cremona abbiamo deciso di lavorare sul tema del suono. Cremona ha una tradizione sul suono, sta investendo sul proprio futuro, sul museo del violino che è estremamente importante. Ecco, il violino è la storia, noi vorremmo dire che c'è anche un suono tecnologico elettronico e questa legame tra tradizione e futuro credo possa essere il modo in cui università, imprese in questo caso e istituzioni possano lavorare insieme. Grazie. Grazie.